E massima attenzione alle famiglie è quello che si pone come obiettivo politico anche il movimento Agire che ieri a Trento ha presentato il coordinamento come nuovo punto di interesse per il centro-destra. Vediamo. Presentato a Trento il coordinamento territoriale Agire che attualmente conta una ventina di componenti, il coordinatore Sandro Bordignon. Un cammino iniziato da poco ha detto che propone un modo di fare politica ormai insolito, quello che consiste nell'occuparsi e partecipare con impegno alla quotidianità vissuta dalla gente. Un movimento ha precisato che non vuole affiliazioni ma territoriale di centro-destra. Lei l'ha detto subito, non siamo la costola di nessun partito. No, assolutamente. Noi abbiamo la nostra autonomia di idee, di movimento. Certo è che dobbiamo avere degli amici, come ho detto anche durante la presentazione. Noi siamo i nuovi vicini di casa che vogliamo essere leali, però allo stesso tempo anche molto schietti a proporre le nostre iniziative e idee. Dunque, se non guardate al PAT e al PD, guardate alla Lega? Assolutamente sì. Noi guardiamo più che alla Lega al centro-destra, cioè Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Le civiche dove stanno? Le civiche dovrebbero essere quel movimento che partono comunque sempre dal basso e noi lo siamo, solo che ci mettiamo assolutamente con chiarezza al centro-destra. Il movimento non porta il nome di qualcuno, ha evidenziato l'anima del movimento stesso, Claudio Cia. Non è il movimento di Cia che lo rappresenta a livello provinciale. Quali sono i vostri progetti per il Trentino? Innanzitutto il nostro progetto per il Trentino è restituire ai Trentini il concetto di politica che si occupa della gente. Quindi vorremmo occuparci delle persone, dei loro bisogni, quindi partendo dal sociale, dalla sicurezza, da tutto ciò che in questo momento sta preoccupando i Trentini. Le priorità? Le priorità, la famiglia. La famiglia deve sentirsi sopportata e non bastonata, perché quello che noi stiamo osservando in questi anni è che la famiglia si sente sempre più oggetto di una politica che praticamente la considera non prioritaria della propria azione. Grazie.